e ciao a tutti io sono mattia degli amore official e oggi siamo su minecraft beh come avete letto la titola si oggi vedremo come mettiamo la vita spettatore su minecraft bedrock edition non java bedrock mi raccomando quindi se siete su java mi raccomando questo non è il video giusto e cominciamo bene prima di tutto non fate caso a queste cose che ho nel libertario sono in creativa è un mondo che ho appena generato quindi non mod anche perché non so come mettere quindi è un mondo normalissimo beh questo video sarà anche corto perché non è troppo difficile andiamo su impostazioni e andiamo sul mio suo gioco poi andiamo scendiamo modalità di gioco personale non modalità di gioco predefinita perché non ci sarà no perché mi ha dato allora io sono impostazioni qua questa mi raccomando questa verde qua e andiamo tutto in fondo e clicchiamo voi sarete su normale non su poveranza non creativa non avventura ma spettatore dopo che avrete messo questa sarete in spettatore vedete la mia testa sarà come quella di joy edition come forse qualcuno sa e ovviamente possiamo passare i blocchi vedete e ovviamente siamo anche super veloci possiamo andare nel terreno a vedere tipo qua c'è un fiume di lava allora noi non lo vediamo da sopra però in modalità spettatore noi lo vedremo eccolo qua ovviamente per toglierla sempre lo stesso passaggio però adesso vi faccio vedere volete toglierla qua e mettervi in creativa bene andate di nuovo su impostazioni gioco spettatore adesso mettete quella normale volete supervivenza io metto creativa e qua lasciate lasciate sopra e qua adesso avrete la modalità creativa e non potete più troppo essere i blocchi come vedete ed è stato io vado in una colonna adesso siamo in creativa è tornata anche il mio amico warden tu sarai wardino e ci è il mio assistente sarà comunque ciao wardino e soltate anche voi wardino e tipo in questo male di lava noi usciamo a vedere i diamanti andiamo sempre la stessa cosa cattiva cattiva e adesso vediamo sotto la lava qua non ci sono diamanti però questa è la mia sfortuna però se comunque qua se eccolo diamanti vedete qua ci sono dei diamanti buono no oppure voglio vedere gli altri non ce ne sono altri non ce ne sono altri comunque oh ecco lì ma ci sono tantissimi ma ci sono tantissimi ma ci sono tantissimi ma qua non ce ne sono guardino guardino guarda guarda e ritorniamo sopra possiamo ovviamente tappare i blocchi come ho detto prima oppure volete vedere questo ammettista eccoci qui postazioni 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 spettatore sopravvivenza adesso sarete in sopravvivenza oh bellissimi il suono mi piace troppo e sarete in sopravvivenza oh se volete risuonare se sono sui passaggi l'ho ripetuto oh così allora andiamo sopra non 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 ho scoperto come diventare velocissimi come la java potete andare solo così veloce come in creativa non non ho scoperto come come andare velocissimi però provo a scoprirlo non lo so comunque ok adesso rimettiamoci un po' in creativa si ok ehm per questo video è tutto se vi è stato utile potete condividere da amici oppure lasciate un buon like iscrivetevi al canale le stesse cose che ho detto in tutti gli altri video è da mattia di game and official è tutto e shell ciao